Eccoci qui ragazzi, ben trovati sul canale con le reaction musicali. Io oggi non riesco a registrare il video, lo faccio partire poi lo annullo, lo faccio partire poi lo riannullo, lo cancello, riparte, lo cerco, non lo trovo perché già l'ho cancellato, forse andava bene, forse non andava bene, non lo so. È un problema questo che spero di risolvere in futuro, che mi capita solamente quando parlo della grandissima musica e in questo caso è molto più preponderante rispetto ad altre volte perché quando comincio a parlare di Beach Boys, che sono una delle più grandi band della storia del rock e mi trovo sempre in difficoltà, anche una delle più importanti band della storia del rock, perché inizio un discorso sulla canzone e finisco a parlare di metafisica ed è un problema. In un video che deve durare al massimo 20 minuti. Ora ci provo, ce l'ho riuscito con i can, ce l'ho riuscito anche in altre canzoni che ho portato in precedenza qui sul canale e riprovo, riprovo e speriamo bene. Oggi vi introduco a questo album dei Beach Boys, The Beach Boys Today 1965, uno dei primi 15 album della band, perché vi dico questo? È chiaramente una battuta, il fatto è che loro in tre anni avevano già inciso 10 album. Quindi questo è il terzo anno di attività e tipo l'undicesimo album inciso. Questo perché facendo una piccola introduzione al contesto e alla band stessa. Loro nel 62, questi ragazzoli qua che vedete in fila, che sono Brian Wilson, i suoi fratelli e Mike Love, che era tipo il vicino di casa. Quindi una dimensione domestica estremizzata. Inventarono il surf pop, che era una musica che, seguendo il solco dell'Elvis di qualche anno prima, si configurò subito come la musica di quella generazione. Una musica che dava la sensazione di essere, ai ragazzi che l'ascoltavano, dei ribelli. Perché narrava le gesta di queste grandi surfate sulla spiaggia, di queste feste infinite, di queste ubriacature, di questa vita mondana molto californiana. E chiaramente era un senso, era come dire, una musica rivoltosa, una rivolta però finta, veramente falsa, perché controllata dall'alto. Chiaramente i discografici sapevano come guadagnarci e quindi era una musica che dava questa sensazione solamente a chi la viveva dall'interno, ma era una pura illusione. Ed era una musica che addirittura, come Elvis, piaceva anche ai genitori di questi ragazzi, alle persone più adulte, perché era estremamente orecchiabile. Questo succederà a meno col punk, che è il proseguimento di questo discorso, che si configurerà come musica, anche quella melodica, tranne in alcuni episodi più specifici. Che narrerà una sorta di rivolta però un po' più sociale da un punto di vista, come dire, ancor meno perbenistico. Utilizzando però delle sonorità un po' più aspre. È lì che ci sarà un po' più l'oiato e l'ascissione fra la generazione dei più grandi e dei più giovani. Però il discorso nasce tutto da queste parti qua. Chi apprezza i Ramones e non apprezzi i Beach Boys si è perso assolutamente qualcosa, perché, nello specificità, i Ramones, i creatori del punk, sono i più grandi discepoli dei Beach Boys. Poi entreremo più nel dettaglio. Anche perché poi dovrò fare un vlog a parte, perché dei Beach Boys bisogna fare un video semi-monografico, paramonografico, in cui devo assolutamente dire perché sono stati una band così, così, proprio colossale, da quel punto di vista. Sociale e musicale. Vi dicevo, quindi io ho deciso di portarvi una canzone da Beach Boys Today, perché nonostante l'undicesimo album è quello in cui Brian Wilson si allontana un pochettino più dalla dimensione vendibile spiccia, nonostante gli album prima avessero al loro interno delle vere perle musicali, però anche gli anni non aiutavano, perché fino al 65 non c'era l'idea che l'album contenesse un discorso unitario. Fino ad allora era una raccolta dei singoli, nel migliore dei casi, perché poi tante volte i singoli stavano altrove e l'album invece era qualcos'altro che doveva spingere i singoli o viceversa. E c'erano tanti, tanti riempitivi. E quindi questo è il primo loro album che ha delle gemme e non dà la sensazione di avere la seconda metà piena, piena, piena zeppa di riempitivi. Si comincia a configurare un discorso unitario, che altrove stavano portando avanti anche Dylan e Rolling Stones, i Beatles con Rubber Soul. Ebbene, Brian Wilson, come la leggenda narra, ascoltando Rubber Soul si disse, ecco, devo dare un aspetto unitario anche ai miei dischi. E fece Pet Sounds, che cambiò tutto, uno dei più grandi dischi di tutti i tempi, uno dei più acclamati dalla critica e uno dei meno venduti in quegli anni. Perché rappresentava una dimensione talmente intimistica da poter risultare tragica. E questo non fu accettato all'epoca. E questo fu causa anche delle discussioni intestine fra lui e Mike Love, che era il frontman, che era quello che voleva invece andare solo alle feste, solo vende tanto e se ne fotteva dell'interiorità e anche dell'integrità psicologica del nostro Brianone. Quindi oggi, appunto, vi porto la prima canzone di questo disco, Do You Wanna Dance? Punto interrogativo. Che è molto importante il fatto che sia una domanda, ai fini della narrazione del pezzo che vi farò fra un po'. E 1965, la copertina marronissima, marroncissima, che rappresenta proprio la più perbenistica delle famiglie americane, come voleva la tradizione dell'epoca, e che in realtà comincia ad attuare una scissione rispetto a quella modalità espressiva pop, ovvero di dover piacere a tutti e di dover parlare a tutti, quando in realtà Brian Wilson piano piano si stava configurando come un songwriter che voleva, tramite delle composizioni orchestrali, parlare soprattutto di sé, di un sé spersonalizzato, di un modo di essere. Ecco. Quindi faccio partire il pezzo, Do You Wanna Dance? 1965, da The Beach Boys Today, The Beach Boys. Vai! Do You Wanna Dance? Do You Wanna Dance? Do You Wanna Dance? Allora, aspettate che c'ho la... Ok, la luce che ogni tanto mi comincia... C'ho questa lampada che ogni tanto comincia anche a fare un po' di rumori, tipo zzzzz, un po' linciano, e l'ho quetato, mi devo dare un cazzotto praticamente. Vi volevo dire, allora, abbiamo sentito quasi il primo minuto, abbiamo sentito Strofe Ritornello, questa canzone è solo composta da Strofe Ritornelli. Perché è un buon pezzo pop, nonostante sia composto solo da Strofe Ritornelli? perché dura intelligentemente 2 minuti e 40. Perché le canzoni pop di oggi non funzionano? Perché hanno la stessa struttura, ma durano 6 minuti. È un problema questo. È veramente un problema. Quindi, invece, abbiamo sentito nei primi 40 secondi qualcosa già come tipo 15 strumenti. Questo perché... Ah, mi metto nei panni di qualcuno che non conosce la canzone, non conosce Beach Boys. E allora, abbiamo sentito 40 secondi in cui la produzione è talmente densa da non riuscire a distinguere gli strumenti. Perché questo? Perché Brian Wilson all'epoca, essendo un grande stimatore di Phil Spector, praticamente acquisì il suo modo di produrre musica, la Wall of Sound, la grande invenzione di quegli anni a livello produttivo. E quindi, anche lui ripropose la sua versione della Wall of Sound. Ricordo, che la Wall of Sound è quel modo di produrre musica secondo cui tutti gli strumenti vanno duplicati, triplicati o quadruplicati. L'impasto sonoro diventa magmatico. La produzione poi era in mono in quegli anni. Quindi è una cosa tutta attaccata e con, in questo caso, un'orchestra dentro. Tantissimi strumenti, anche particolari, lussureggianti, il corno francese, l'oboe, tre batterie, due percussioni orchestrali, tamburi proprio. Ci abbiamo poi anche Al Blaine, insomma, i turnisti sono incredibili, Al Blaine, Harold Palmer, Leon Russell, cioè veramente chiunque. e quindi non si riesce bene a distinguere. Ci sono cinque pianoforti, il gran piano, quelli più piccoli, la farfisa, ci sono strumenti assurdi che uno, certe cose, ahimè, neanche riesce a distinguere in certi casi, ma che però aumenta quella sensazione. Fa, è veramente musica sensazionale da quel punto di vista. e quindi adesso abbiamo sentito dei fiati che partono a fine strofa per portare il ritornello, c'è un crescendo dei tamburi, c'è una tamburina, c'è una batteria andante, ci sta chi suona solo il charleston, è pieno di campanelle, è pieno di campanelle ovunque, cioè è veramente una cosa indecifrabile per certi versi e se vogliamo questo è già un discorso che va a toccare la parte un po' più interiore, c'è quello stesso tipo di indecifrabilità. Andiamo avanti col pezzo. Il pianoforte è molto percussivo in molti casi, no? i cori, sentite che attenzione per i cori. Regà, ma di che stiamo a parla? Eccola solo, un po' blues, rock blues, sentite che attenzione per l'orchestrazione, questo è proprio il barocco applicato al pop, questa è musica veramente barocca applicata al pop, però con grande gusto. ragazzi, sì, io c'ho sempre i brividi coi Beach Boys, io c'ho sempre i brividi coi Beach Boys, perché un'interpretazione della musica pop così peculiare, così particolare, unica, è la loro, regà, a parte che ha influenzato il mondo, tutti si sono rifatti ai Beach Boys, ma è veramente un tratto sensibile del pop, il tratto più sensibile della musica pop, veramente nei 40 anni seguenti, nei 50 anni seguenti, poche volte si sono raggiunte queste vette di intimità, da un punto di vista però proprio della poetica, ecco, parliamo della poetica. Allora, mi rimetto nei panni di qualcuno che non ha mai sentito Beach Boys, c'è la sensazione, sì, di movimento, del trasporto, che bello, tutta questa vitalità, dà proprio la sensazione a livello sociale di vivere proprio nella golden era dell'America, come citando il mio maestro nel trattare quest'ambito, il buon Ferroti, in quelle notti e in quelle giornate d'estate in cui sembrava appunto che la stagione non finisse mai, era sempre estate per quanto c'era vitalità in giro e sembra proprio di vivere quel contesto lì. Però c'è anche una punta di malinconia che è impossibile non... non... è impossibile non tenerne conto. È musica veramente straziante per certi versi perché poi Brian Wilson per chi l'ha ascoltato bene dà proprio la sensazione di essere un bimbo che viveva nei panni di un adulto. Quindi una persona con una sensibilità molto infantile, molto infantile, ma non perché fosse scemo, semplicemente perché aveva quel tipo di sensibilità rispetto al mondo. Quindi su The Beach Boys Today noi viviamo proprio nel Do You Wanna Dance? in quella domanda proprio la sensazione, il tremore della prima volta che qualcuno va a chiedere un ballo ad un'altra ragazza all'interno di un college, di una festa di un ballo di fine anno. C'è proprio l'odore del primo appuntamento, cioè veramente la paura della vita al di fuori della dimensione domestica, la voglia di conoscere ma la paura di ciò che non si conosce ancora. Cioè è una musica che trasmette quella sensibilità che è la cosa più umana che è possibile trovare, è come vedere un film, un grandioso film o leggere un libro approfonditissimo che narra magari sì di un'altra era ma più che altro dell'integrità e dell'interiorità di qualcuno. E qui c'è veramente un discorso che poi negli anni ma poi nel corso dei due anni non negli anni non in dieci anni cioè noi abbiamo qui un Brian Wilson che vive la dimensione non fa più il college però ci mette nei panni di un adolescente che vive la dimensione appunto proprio più collegiale proprio quella dell'American graffiti con Pat Sounds lui rilancia e perché Pat Sounds è un disco migliore perché ha delle canzoni sicuramente ancora più ispirate addirittura ma perché sono più intime perché più pregne di quel carico di malinconia di tristezza e di paura di chi ha coscienza quando esce dal college e si interfaccia col mondo di chi si accorge che quell'estate non durerà per sempre che quelle belle serate non dureranno per sempre che il mondo non è solamente come lo si immagina cioè non c'è più quella 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 differenza tra il mondo idealizzato e il mondo com'è ci si comincia a rendere conto e poi se vogliamo proprio andare come piace a me che poi è il mio modo di trattare la musica se vogliamo portare proprio il discorso alle sue massime conseguenze al suo massimo approfondimento quella dimensione malinconica diventerà malinconico tragica in alcuni in alcuni episodi diventerà ancor più elevata e e avrà proprio un un dei risvolti metafisici e nell'album Smile soprattutto con canzoni come Surf's Up che è il massimo esempio di di questa metafisica del del surf del surf pop è proprio un discorso che parte dal da noi e arriva parte da noi finisce in noi lo vedete perché poi non si finisce mai di questa è musica inafferrabile è sfaccettatissima è musica che non bastano mai le parole per raccontarla è musica che nasce all'interno di una persona finisce all'interno di una persona ma in quello spazio ristrettissimo c'è l'eternità c'è l'universo ecco da The Beach Boys Today a Smile c'è questo da dentro all'universo e questo è uno dei è uno dei massimi massimi riconoscimenti che è possibile fare probabilmente ad un artista nel mondo e a me è musica che spiazza sempre mi crea anche quella conflittualità con me stesso perché io come tutti gli esseri umani fuori dalla mia dimensione personale nel mio interfacciarmi con il mondo nel mio nel mio uscire e incontrare gli altri tengo fortemente al fatto che mi si riconosca la mia età la mia struttura e la mia potenza la mia caratterialità il mio modo di essere ma questa è musica che quando metti play ti riporta ad una dimensione talmente interiore che ti crea una scissione rispetto a quello e quindi si va in conflitto e le persone molte persone perché apprezzano solo il punk per esempio e non apprezzano i ramonze e non apprezzano i beach boys che poi alcune canzoni di ramonze sono proprio specialmente le ballade sono la cosa proprio sembrano i beach boys che 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 fanno i beach boys senza l'orchestralità ma 15 anni dopo è quello il discorso però in questa dimensione così perbenisse tutto quanto anche il contorno dalla sensazione a chi vuole sentirsi un pochettino più padrone di se stesso anche agli occhi degli altri musica inaccettabile perché apre una dimensione che è quella proprio più proprio più più vulnerabile ecco questa è musica della vulnerabilità e Brian Wilson è uno dei massimi poeti in musica della vulnerabilità e e questo non non piace a chi invece non vuole riconoscersi vulnerabilità e a me sono tante le persone così eh quasi tutte quasi tutte e però noi ascoltiamo bene la musica dei beach boys ce la portiamo sempre nella mente e nel cuore e quando vanno in concerto cerchiamo di raggiungerli ovunque vadano e ora sperando che questa situazione del virus finisca spero tornino in Italia io li ho visti una volta è stata è stato uno dei più grandi concerti della mia vita perché è stato il primo in cui ho avuto l'impressione di trovarmi davanti e parlo di Brian Wilson tutto ingrossato al pianoforte quasi incapaci di muoversi di alzarsi lo aiutavano ho avuto però l'impressione di avere davanti un grande genio ma non per l'intelligenza un discorso della sensibilità quando proprio la sensibilità di una persona si esteriorizza e ti arriva se lo sai se la sai recepire quel tipo di di aurea di aura e e quindi amiamoli ascoltiamoli studiamoli perché non si finisce mai di studiare i beach boys e porterò tante altre cose su di loro perché perché se lo merita se lo meritano e ve lo meritate anche voi che vedete questi video io vi do un bacione spero che il video vi sia piaciuto se si mettete like al mettete cliccate sul pollicione commentatemi se la canzone vi è piaciuta al di là del discorso che vi ho fatto seguitemi sui social e e come come dico sempre fate quello che vi pare fate veramente tutto quello che vi pare nei limiti della legalità chiaramente ma andate a prendere andate a comprare dei beach boys today comprate una compilation dei beach boys magari che copre il primo periodo e comprate beach boys today e entrate in quella modalità interiore che cambia la vita io se oggi sono quello che sono devo devo ringraziare devo ringraziare i beach boys di Brian Wilson ciao ragazzi